Quest'oggi parliamo del Box Tempesta. Quindi la Wizard of the Coast ha deciso negli anni di fare delle confezioni regalo per introdurre i bambini al gioco di carte collezionabili e ha deciso di creare sia lo Starter Gift Set sia la confezione Tempesta. Con la differenza che lo Starter Gift Set è uscito solamente in lingua inglese, mentre la confezione Tempesta è uscita in multilingue, diciamo. Dico multilingue perché sappiamo dell'esistenza del Box, vabbè, ovviamente in italiano, ne esistono di due tipologie in inglese, perché esiste la versione americana che si chiama Thunderstorm e la versione inglese che si chiama Tempest. E oltre a queste due versioni inglese esiste anche la versione francese, la versione tedesca e la versione olandese. Non abbiamo assolutamente notizie di una versione in spagnolo o una versione in portoghese. Sto ancora cercando addirittura anche delle foto, se esistono, ma non riesco a trovarle. Andiamo a vedere, innanzitutto, guardate che ogni confezione per essere distinta aveva addirittura scritto la lingua nella parte bassa. Perché questa confezione era una confezione per iniziare, anche se viene catalogata negli avanzati? Perché di fatto conteneva tutto ciò che ti serviva per iniziare a giocare. Un mazzo, tre bustine, il CD-ROM con il Trading Car Game, versione per PC, il tabellone da gioco, una moneta, insomma, tutto quello che serve. Quest'oggi, anche se possiedo un Tempesta sigillato, non apriremo nessun Tempesta, perché non ha senso aprire una confezione del genere sigillata nel 2020. Per cui ci accontenteremo di vederla ricreata esattamente così com'era. Guardate che anche qui c'è scritto Italian, questa cosa l'ho notata adesso. Non si smette mai di imparare. Andiamo a vedere il suo contenuto. Quindi, una volta aperto, e questo è certo perché sono poco andato a vedermi altri video di apertura e ho ricostruito esattamente com'era. Troviamo il foglio dove spiega il contenuto del mazzo Tempesta. Questo mazzo era un mazzo particolare perché conteneva uno Zapdos olografico. Questo Zapdos doveva essere anche differente rispetto allo Zapdos normale fossil. Se non sbaglio aveva una tipologia di olografia diversa. Qua nel foglietto vediamo un po' che fa una descrizione del mazzo Tempesta e parla anche di cosa puoi togliere e mettere dal mazzo, un po' come abbiamo visto in altre guide. Guardate che bello questo posterino e questi artwork. Guardate anche questo Raichu, ma comunque anche l'immagine qua del Tempesta rende molto. Ok, quindi questo era il foglietto che si trovava all'interno e poi si trovava un playmat che non è presente in altre confezioni e anche qui è pieno di artwork particolari. Magari lo vediamo dopo se abbiamo tempo, sennò comunque è un playmat. Magari troverete anche le immagini. Vedete qua è pieno di artwork particolari, qua ho scritto panchina, poi ce ne sono un po'. Vabbè, non sto a mostrarvelo adesso e poi passiamo al reale contenuto. Quindi, prima cosa, mazzo Tempesta. Questo pezzo è veramente difficile da trovare sigillato, questo perché la gente se apre il box Tempesta chiaramente poi apriva anche il mazzo interno. Quindi è difficile che qualcuno abbia aperto la scatola per poi tenere sigillato il mazzo. Per cui è veramente difficile riuscire a trovare un mazzo Tempesta, così anche come le altre lingue, trovare il mazzo interno ancora sigillato di fabbrica. Ve lo faccio vedere, mazzo bellissimo il fatto che sia presente Zapdos nella copertina, la pokeball chiusa che ricorda un po' il demo box. Tutto tutto molto bello. Lo mettiamo da parte. E qua troviamo il CD del gioco di carte, anche se la versione non è esattamente questa, perché ho come la sensazione che questo CD sia in realtà stato distribuito promozionale, perché le altre versioni non hanno la scritta prodotto promozionale. Per cui immaginatevi che il CD sia esattamente lo stesso, semplicemente qua non ha la scritta prodotto promozionale. Poi, la parte che probabilmente interessa di più, che è le bustine. Quindi, anche qui c'è una differenza rispetto alle altre lingue, perché cosa succede? Il box Tempesta è uscito nell'inverno del 2000. Ovviamente, in Italia erano usciti alcuni set in ritardo. L'Italia è sempre stata in ritardo di almeno sei mesi, o addirittura un anno. Per cui, mentre negli Stati Uniti avevamo set come Rocket e Base Set 2, infatti nel Thunderstorm e nel Tempest possiamo trovare anche queste tipologie di pacchetti. Addirittura si può trovare anche G-Mero, se non sbaglio. che G-Mero è uscito nell'agosto del 2000, se non erro. Qua, nella versione italiana, troviamo i pacchetti che erano usciti solo fino a quel momento. Per cui troviamo un pacchetto Rocket, un pacchetto Jungle e un pacchetto Set Base. Questo era il contenuto. Per cui tu avevi il tuo bel mazzo, aprivi il mazzo e potevi aprire i pacchetti e decidere di, come dire, effettuare dei cambiamenti nel tuo mazzo a seconda di quello che trovavi in queste espansioni. Chiaramente non apriremo nessuno di questi pacchetti, per lo stesso motivo che ho spiegato in precedenza. Un altro oggetto insolito, anche perché la sua utilità è dubbia, è questo sacchettino. Veniva allegato questo allegato, veniva messo dentro la confezione questo sacchettino di belluto. Non so esattamente a cosa servisse, magari per mettere i segnalini danno, la moneta, un mazzo di carte, non ne ho idea. Sta di fatto che dentro queste confezioni troviamo questo sacchettino carino e non sempre si trova. Infatti ho dovuto aspettare per riuscire a beccarlo, per aggiungerlo. E poi, infine, troviamo la moneta di Pikachu, che adesso vediamo se riesco a estrarre senza rompere tutto. Ecco qua. E infine la moneta di Pikachu. In metallo. Non male, anche questo è un bel pezzo. Andiamo a rincastrarlo dentro. Chiaramente poi questa vaschetta inizialmente non si doveva estrarre, ma dato che comunque questi prodotti soffrono l'età, molto spesso troviamo la scatola un po'... Anche perché era una confezione che nel momento in cui veniva aperta la plastichina tendeva a imbarcarsi, per cui la troverete sempre con le parti laterali un po' imbarcate. Niente, ragazzi, questa era la confezione tempesta. Vediamo se riesco a farvi vedere un po' meglio questo tappetino. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Anche qui molti belli artwork. Bellissima questa Poco Ball centrale. Simbolo con questi simboli che richiamano la confezione in sé. Niente, questo è il mat della confezione tempesta. Per cui niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Vi mostrerò qualche altro prodotto. Ho sigillato, ho ricreato. Se volete vedere altri video, iscrivetevi al canale. Grazie. Grazie.